Nasce a Mazzara un nuovo soggetto politico-culturale, la Forza dei Fatti, che si è costituito a Mazzara proprio pochi giorni fa. Ne parliamo con la professoressa Paola Barranca, segretario del Movimento. Perché nasce questo Movimento? In cosa consiste? Il Movimento nasce proprio con la voglia di esserci, di essere dentro un vissuto cittadino, di essere dentro la problematicità del vissuto cittadino, di essere dentro tutte quelle realtà che di fatto non danno molta garanzia, che possono apparire un tantino così, come dire, di grande espressione sociale, ma poi non hanno né risposte, né soluzioni, né azioni che garantiscono, come dire, una certezza, non dico una verità, ma proprio una certezza dei fatti stessi. La Forza dei Fatti legittima proprio l'azione politica e il fare del consigliere comunale Francesco Foggia. Oggi vuole legittimare l'azione di tutti i componenti del gruppo, che come Foggia vogliono impegnarsi a titolo civile, a titolo sociale, all'interno proprio di una città che spesso si trova a contrastare tanti aspetti poco fruibili e che possono, come dire, arrecare anche un certo disagio, un ostacolo alla crescita della nostra stessa città. La Forza dei Fatti ha una sua identità, è l'identità di tutte le persone differenti che lo compongono, è l'identità di Francesco Foggia, è l'identità proprio di quello che sarà l'espressione di un agire collettivo che ci rappresenterà. Sarà presente alle consultazioni elettorali, si presenterà con una lista, condividerà possibilmente la figura di un candidato sindaco che si faccia portavoce rappresentativo dell'intera cittadinanza, non soltanto di un partito o di un'espressione partitica già di per sé scontata.